Per la madre e per Riccardo! Per la madre e per Riccardo! Per la madre e per Riccardo! Non mi sono fatto niente. Claudio Bisio, buongiorno. Buongiorno a voi. L'ultima volta che siamo stati bambini. Arriva al cinema un film importante perché, siamo abituati a vederti davanti alla macchina da presa, ti vede regista. Allora, raccontaci della tua prima volta. Sono sincero, non ho mai pensato davvero realmente di fare regista. Quando ho avuto l'occasione, in realtà nasce l'occasione di questo film da produttore. Io sono anche produttore di questo film, non tutti lo sanno. Ho letto, insieme a mia moglie, abbiamo una piccola società che si chiama Solea, alla ricerca di progetti. Leggemo, in realtà l'ha letto prima lei perché le donne si sa, leccano più degli uomini, quindi legge più di lei di me. Mi ha fatto conoscere questo libro di Fabio Bartolomei, il titolo è uguale, l'ultima volta che siamo stati bambini. L'ho letto, mi ha fulminato e abbiamo subito preso l'opzione del libro, che dura un anno, come voi sapete. Quindi in quell'anno, avendo l'opzione del libro, sono andato a caccia di coproduttori che ne sapessero. E poi il secondo step, gradino, è stato quello di cercare un regista. E poi mi hanno visto i miei collaboratori, faccio anche i nomi, uno è Giampaolo Lettra, di Medusa, l'altro appunto Massimo Di Rocco, di Bartemey, l'altro è Sandra Bonzi, di Solea, cioè mia moglie. Questi tre mi hanno circondato, mi hanno detto, ma scusa, sei così entusiasta, è rueta, su questa storia, perché non lo fai tu, il regista? Fui colpito molto, io mi sono preso una riserva, ho detto, solo se troverò i bambini giusti, i protagonisti giusti, accetterò, toglierò la riserva. Quando li ho trovati ho detto, va bene, accetto di fare la regia. Oggi posso dire che mi sono divertito, mi è piaciuto e... Anticipo un'altra domanda, faccio tutto io, faccio anche le domande, ma stai già pensando a un altro progetto? No, però ci fosse un altro progetto, non mi spiacerebbe. Restiamo su questo e parliamo del libro a cui hai appena accennato, il libro di Fabio Bartolomei, un bellissimo libro pubblicato dall'edizioni.io, che ha avuto giustamente successo, però la cosa che vorremmo chiederti è cosa esattamente in quella storia ti ha emozionato come lettore, prima ancora che come regista? Sì, è vero, la prima emozione è stata proprio da lettore, più di una volta, perché poi quando ho collaborato anche a Bonifaci con la sceneggiatura, quindi abbiamo avuto occasione di leggerlo, sottolinearlo, prendere appunti tante volte quel libro, e devo dire, ci sono certi punti del libro che ogni volta lo rileggevo, cioè sapevo già di cosa stavo per leggere, mi scendeva giuro la lacrima. Ma soprattutto, poco prima, durante la lettura del libro, avevo riso, questo mi ha emotivamente coinvolto tantissimo, sarebbe bello tutte queste cose che ho letto, questi bambini descritti così bene, io me li sono anche visti, devo dire, riuscire a farli vedere ad altri, magari in un film. Senti, è un esordio con un triplo carpiato, perché tu, pur uso alle malizie dell'attore, decidi di dirigere dei bambini, cosa difficilissima. Com'è andata e prima ancora, che cosa ti ha convinto a scegliere esattamente i protagonisti che hai scelto? Io devo dire che mi sono trovato benissimo, io diretti bene, vi faccio i complimenti, no, prima ad averli scelti quelli giusti, e poi la mia bravura, anche predisposizione, io amo i bambini, davvero. Anni fa ho fatto uno spettacolo che si chiamava I bambini sono di sinistra, anni dopo ho fatto un altro spettacolo che era Gli sdraiati da un libro di Michele Serra, rieditato adesso dopo dieci anni, da Feltrirelli, diciamole queste cose ogni tanto. Quindi è stato tutto facile, e devo dire loro hanno dato quella cosa in più, sono veramente professionisti, bravi, arrivavano con la parte a memoria, per esempio. Beh, allora, siamo in Germania? Ma certo, non lo vedi il sole? Germanico! Quanto è grosso! Imboscata! Cos'è l'inno tedesco? Ovvio! Vai, cantalo! Deutschland, Deutschland, Uberall! Dai, più forte, così il popolo germanico ci sente! Deutschland, Deutschland, Uberall! 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 Ragazzi, che sa fare lì? Scendete il nostro treno, forza! Beh, però, il tedesco ti capisce bene? Ma addirittura conoscevano le regole per dei bambini che a un certo punto non possono lavorare otto ore di fila, ogni quattro ore devono fermarsi a riposare, giustamente, regole, perché un certo punto mi chiamavano Bisio, Bisio mi chiamavano Bisio, come fosse un soprannome Bisio, oh, dobbiamo fermarci, dobbiamo riposarci, riposarci, guardavo la produzione, mi annuiva, fermiamoci. Per fortuna nel nostro film c'è una storia doppia dove ogni loro fuggono e andano a piedi in Germania a cercare questo loro amichetto per salvarlo e sono inseguiti da due adulti, il fratello di uno che è un soldato e la suora che acudisce la bimba che vive in un orfanotrofio. Quindi io potevo, nelle stesse location, quando ero lì, facevo fermare i bambini e andavo avanti a girare con gli adulti. Seguiamo i binari, andiamo nei paraggi di una galleria. Nel caso dell'immagine che ci presenta il tuo film, oltre quel buio possiamo intuire la storia drammatica del periodo che racconti, ma anche l'adolescenza. A poca distanza seguono gli adulti, ma sembrano più adulti bambini forse. Assolutamente è vero. Questo viaggio che nel libro in realtà dura 9-10 giorni, noi l'abbiamo al cinema riassunto in tre giorni, sono tre notti, di cammino lungo i binari per andare verso la Germania, la Polonia, Auschwitz, non si sa, a salvare il loro amichetto. Accadono tante cose e partono, come dicevi tu giustamente, bambini, infanti, con delle ingenuità pazzesche, a un certo punto montano la tenda la prima notte e la bimba, sono appunto come dicevo, una bimba e due maschi, e la bimba vanta e dice, ma avete portato una tenda sola? Eh sì, dicono, e io dove dormo? Eh beh, con noi. No? E se mi comprometto? Lei dice, già non ho i genitori, se poi non trovo neanche un marito, io... Allora uno dei due maschi dice, no, fammi pensare, secondo me, la tenda non vale per compromettere, se ci vuole il letto, lei ci pensa, sì, hai ragione, quindi dormi in tenda con loro. Per dirvi, no, per dirvi il tono che c'è, no? Hai detto giusto tu, l'abbiamo ripresa nella locandina, che è un'immagine del film, e esiste veramente simbolicamente un prima e un dopo quella galleria, quella galleria che è piccola, sarà a 200 metri, neanche dove prima della galleria c'è un dialogo, a mio avviso bellissimo, dove si raccontano cosa vorrebbero fare da grandi, uno dice, cosa vorrei fare? Ah, dice, io da grande farò l'eroe, ma è un lavoro, adesso no, ma vedrai che poi quando noi sono convinti, direi, sono l'ora di andare a salvare il loro amico, quindi diventerebbero eroi, quando poi finisce la guerra vedrai che mi chiameranno per salvare tutti, ma amici, parenti, e mi pagano, e tu cosa vorresti fare? Ma io, dice l'altro, vorrei fare un lavoro dove visito il mondo, vedo gente, e l'altro dice, ah, tipo il postino, magari, questo dialogo leggero, surreale, dove parlano della vita, del futuro, è poco prima di vedere quella galleria, attraversarla, sentire gli spari, rischiare la vita loro stessi, e non vi dico il finale, ripeto, essere riportati alla cruda realtà e, ahimè, non essere più bambini, ma adulti. E poi la guerra si respira nella lingua, nella lingua che parlano i bambini, nella lingua che parlano gli adulti, attorno a loro, passiamo in una stanza dei bottoni dove incontriamo un gerarca in orbace, un po' particolare, raccontaci un po' come è stato vestire quei panni. sì, sì, io ho fatto un ruolo anche come attore, ricordando il mio passato e forse il mio futuro, è stato un cameo, come si dice in gergo, un piccolo ruolo, il papà di uno di questi tre bambini, che è un balilla, e il papà è un gerarca fascista, io, profilo mussoliniano, un po' ce l'ho, non è Mussolini, ed è stato un divertimento, verso il mio figlio piccolo, quello, Italo che va a fare questa impresa, essendo io raccontato come podestà di Varese, ma vivendo a Roma, il piccolo sarà cresciuto, immagino a Roma, allora io lo costringo a un certo punto per dire quanto lo tratto male, gli faccio fare le flessioni, perché è un po' cicciottino, perché sbaglia i verbi, cioè sono un padre padrone, un po' cattivo, molto, no, un po' cattivo, molto cattivo, tra l'altro con l'uso con i nazisti, c'è anche un aspetto importante in quella scena, dove c'è un gerarca nazista che racconta appunto che dovranno portare via questi ebrei ed è il motore di questa storia, perché il bimbo dal buco della serratura ascolta questo dialogo e quando il loro amichetto ebreo scomparirà andrà a rovistare nei cassetti, perché questo gerarca nazista aveva disegnato più o meno un binario che andava a nord, dove, insomma, si intuisce dove e quindi la chiama la mappa, per lui è una mappa, quindi è una scena piccola ma importante. Tornando all'avvessazione del governo di mio figlio, da uomo del nord, e bimbo cresciuto a Roma, ulteriormente lo avesso dicendo e ricordati, sempre forza, Italo! Si chiama Italo. E sempre forza? Dai. Sempre forza? Milan. Vai. Mi raccomando le flessioni. Caro Claudio, ho molto apprezzato il tuo film perché hai saputo rendere la freschezza e l'innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia che c'è sullo sfondo. Un abbraccio, Liliana. È la lettera breve, ma intensa, che hai ricevuto qualche giorno fa. Quali emozioni hai provato? Liliana Segre, stiamo parlando di una... Anche lì, pensateci, una donna che ha vissuto quello che ha vissuto, ebrea, bambina, portata in il lager, appunto, sopravvissuta tra i pochi, che oggi, a 90 anni, oltre a 90 anni, deve vivere con la scorta. La ritengo una cosa indegna di un paese civile. Vabbè, chiusa parentesi mia, la frase di Liliana Segre mi ha rasserenato perché non volevo neanche toccare suscettibilità di chi l'ha vissuta davvero quella storia e non volevo né offendere né sbagliare. Mi sembra di, almeno da quel lato, non avere sbagliato. Senti Claudio, ci avviciniamo al capolinea di questa nostra conversazione. Prima di salutarci, ringraziandoti per essere stato con noi e per averci regalato un po' del tuo tempo, e vogliamo celebrare i 40 anni della tua carriera cinematografica. Se guardiamo indietro, 1983 Kamikaze, l'ultima notte a Milano, Gabriele Salvatores, il viaggio è stato lungo, ci sono state tante stazioni. A riguardare da qua, adesso, che cosa provi? Un po' di piacevolezza, un po' di serenità anche, mi sento appagato di quello che ho fatto. e poi, voglio dire, spero di riuscire a fare ancora qualche cosa bella, ma in 40 anni da attore, ovviamente, perché il regista ha il primo film, ma come attore ne ha fatti più di 40 film, ho lavorato con tanti registi e fammi a volo d'uccello citare un Oscar con Mediterraneo, non a me, ma al film, insomma, piacevole. Benvenuti al Sud, dove ancora oggi, quando fanno il ventottesimo passaggio televisivo, l'ho visto ieri sera, pensando che io sappia cosa c'è fatto ieri sera, invece era magari la quindicesima replica di Benvenuti al Sud, mi citano delle scene, quindi quello è stato un film storico, benvenuto presidente, più questo che ho fatto da regista, mi sembra che, come ho detto prima, ha pagato, cioè sereno, sereno perché ho fatto delle cose belle, poi anche meno belle, ne ho fatte di tutti i tipi, ho fatto film, non sempre vengono le ciambelle col buco, riescono i film, però la sincerità da parte mia c'è sempre stata, la ricerca anche di una, si direbbe un film rouge, se andate a vedere, secondo me, tra il teatro, il cinema, mi vengo a dire anche la televisione, tra mai dire gol, insomma, secondo me, un filo, se uno dovesse un domani, ancora, non sono a fine carriera, ma un domani, dovesse tirare un bilancio della mia appunto carriera, penso che un filo rouge, come si dice in gergo, un filo, lo troverebbe, e meglio di così, cosa posso chiedere? Guarda i colori della sedia su cui sei seduto e completa la frase Forza Milan! Grazie Claudio Bisio, grazie a voi. La cosa più bella della vita è la libertà.